Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 4 km di coda per un incidente tra il BV1 Variante e Sasso Marconi in direzione di Bologna. In carreggiato opposta, coda in uscita a Firenze Sud. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, rallentamenti a code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivia 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infipili, rallentamenti per gli spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso il capoluogo. In chiusura per il traffico ferroviario regionale 11 978, Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella sta viaggiando con 25 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione al momento previsto alle 9.07, salvo recupero. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!